buongiorno buongiorno sempre ben carico quando sto bene e quindi partiamo subito oggi perché già si leggono cose da ieri sera che non sono piacevoli e che dobbiamo affrontare subito con questo video andiamo subito a mettere l'iscrizione al canale siamo quasi 10.800 cerchiamo di arrivare a 10.800 entro la fine di giugno ce la possiamo fare cliccate l'iscrizione al canale mettete mi piace al video condividete il video seguitemi su instagram twitter e tiktok il link è sempre in descrizione perché se mi aveste seguito prima su instagram avesse già visto un antipasto di questo video dove ho parlato della situazione di daniel maldini piccolo resoconto della situazione sky nella bocca di gialluca di marzio esce ieri sera dicendo daniel maldini scadenza 2024 e non 2025 sta andando a parametro zero al monza questa mattina longo daniele longo che si occupa di mercato molto spesso del milan dice no scade 2025 stanno trattando col monza magari può essere che vada a zero però scade 2025 lo conferma simone cristallo di radio rosso nera quindi ambienti vicini al mila ora io non lo so se di marzo ha letto transfer market dove c'è scritto va detto ad onore del vero scadenza 2024 e ha dedotto che fosse così non lo so ma me ne vado per logica se daniel maldini nello scorso anno viene prestato prima all'empoli e poi al monza dove c'è l'interruzione del prestito con l'empoli fa poi al monza noi sappiamo che non si possono prestare i giocatori in scadenza di contratto quindi qualora l'avessero prestato in scadenza di contratto era una cosa infattibile quindi avrebbero dovuto rinnovarlo è vero non c'è un comunicato del rinnovo ma non è che la società obbligata a comunicarlo il rinnovo alla stampa però se tu vai a prestarlo e c'è pure la roba del riscatto il contro riscatto a favore del monza e poi al rifavore del milan di cui se n'era parlato ai tempi non era fattibile con la scadenza 2024 quindi o ci hanno detto una balla sul fatto che non si possono prestare i giocatori con scadenza contrattuale o hanno fatto il rinnovo senza dircelo il rinnovo annuale sino al 2025 ora da quello che ci dicono lungo e cristallo daniel maldini scade 2025 da quello che ci dice di marzo no scade 2024 dove sta la verità lo sapremo solo vivendo ma qui torno a una fase una frase di braimovic quando ha fatto la conferenza riferendosi alle commissioni che chiedono gli agenti da qual pulpito viene la predica mi verrebbe da dire disse noi non facciamo beneficenza facciamo trattative non facciamo beneficenza e allora dimostriamolo adesso e allora dimostriamolo adesso adesso devi dimostrare ibra che non si fa beneficenza non solo sulle trattative d'entrata ma soprattutto su quelle in uscita soprattutto su quelle in uscita perché se è vero come dovrebbe essere vero che daniel maldini scade nel 2025 non esiste che lo regaliamo a zero al monza per l'amicizia con galliani eccetera che poi i giocatori del monza se ne vanno all'inter guarda carlos augusto non esiste che noi lo regaliamo a zero come tra l'altro gli abbiamo pure prestato colombo la scorsa estate non esiste se ha un contratto e il monza è interessato a prendere daniel maldini lo paghi paghi il cartellino perché non è possibile che tutti valutano e ipervalutano i loro giocatori giocatori che non hanno presenza nei campionati professionisti professionale professionale come cazzo si dice li vendono all'estero per 20 milioni di euro o ma non non è solo il caso casadei non è solo quello healing junior che ha fatto quello che ha fatto in serie a ma non vale la cifra a cui viene venduto vengono fatti questi prezzi solo il rapporto del fatto che sono giovani ormai basta essere giovani per essere pagati bene barrenecea che retrocede con con il frosinone e viene pagato viene valutato 20 milioni di euro carboni che ha fatto meno di maldini a livello di gol e viene pagato 20 milioni di euro cioè viene valutato 20 milioni di euro i mulattieri non è possibile che tutti valutano cifre astronomiche i loro giovani il rapporto al fatto che sono giovani la prospettiva eccetera daniel maldini che ha 22 anni gioca già in serie a da da 2-3 anni ha avuto presenze con il milan ha fatto gol con il milan ha fatto gol con lo spezia e quest'anno in 11 presenze a monza fa 4 gol con una media vicina a un gol ogni due partite ora io non è che sto dicendo che daniel maldini è cacare mi devi dare 60 milioni ma cerchiamo di venderlo bene ma non ho capito perché lo dobbiamo regalare ovviamente il rapporto di quello che si dice sto facendo questo commento non non è che voglio attaccare la società su quello che si dice però metto le mani avanti dico cerchiamo di venderlo bene non esiste che lo regaliamo a zero già l'errore è stato fatto con con brescianini no perché brescianini l'abbiamo venduto senza prenderci nulla del cartellino un giovane con il 50 per cento della futura rivendita dice vabbè ma tu domani se loro lo vendono a quattro quindi due milioni ma tu potevi prenderli subito due milioni e poi metterci pure la percentuale sulla rivendita perché oggi veramente basta avere un giovane che dimostri un minimo di qualcosa per vendere per fare qualche milioncino sul cartellino non è possibile che solo noi li dobbiamo regalare quindi che non si faccia beneficenza se poi c'è la situazione del 2024 qualcuno ci spieghi come ha fatto ad andare in brezzo da daniel maldini perché non mi è chiaro ma se per logica scade 2025 e il monza lo vuole io pretendo che venga fatta una transazione sul cartellino non esiste che glielo regaliamo non esiste non esiste o meglio se glielo regali vuol dire che sotto c'è una trattativa per un colpane una trattativa per qualcosa sotto perché altrimenti non non ha senso logico che noi dobbiamo regalare il cartellino di daniel maldini non perché daniel maldini sia un fenomeno ma perché stai svalutando il cartellino sul quale tu puoi fare dei soldi che poi vai a vedere sono quei 5 6 milioni di differenza sulle commissioni che ti chiedono per circa sé e paradossalmente tu li puoi prendere facilmente da un giocatore che non utilizzi che non utilizzerai quindi cerchiamo di fare le cose rette e corrette questa è la situazione di daniel maldini ma non è che solo daniel maldini anche quando salemakers no salemakers ha fatto un'ottima stagione a bologna quando è uscita la voce che lo voleva la juventus no e ma giuntoli offre 7 8 milioni di euro ma che 7 8 milioni di euro e ma non ho capito ma scusate ma healing junior ma che ha fatto più di salemakers ma che ha fatto healing junior più di salemakers per valere per valere più del doppio salemakers ha vinto uno scudetto salemakers ha vinto uno scudetto da protagonista perché era protagonista di quel milano salemakers fa a bologna fa bene lo vuole l'allenatore che lo aveva a bologna che l'ha fatto performare e noi ci dobbiamo contentare l'elemosina allora noi non facciamo beneficenza benissimo ibra non facciamo beneficenza per le commissioni ma non la facciamo neanche quando vendiamo non la facciamo neanche quando vendiamo la beneficenza questo è quanto vi dovevo seguitemi su instagram twitter e tiktok il link è in descrizione mettete mi piace al video decolliamo col canale iscrivetevi al canale sempre forza mila grazie a tutti grazie a tutti